15 giugno 2023 Triste messaggio della Vergine di Anguera Il Santo Nome di Dio non sarà più onorato e sarà il buio totale Preparatevi Che il nome del Signore oramai non sia più onorato tra la gente come un tempo, questo è chiaro e lo si vede dai tanti eventi tragici che avvengono ogni giorno nella nostra vita Pensiamo di essere i padroni di questo mondo ma non ci rendiamo conto che siamo solo di passaggio sul mondo creato da Dio affinché la nostra anima possa evolvere La cecità spirituale a cui stiamo andando incontro è molto triste dice la stessa Madonna in questo messaggio e non è affatto facile sentire la presenza di Dio se non si prega costantemente e non si vive l'Eucaristia dove incontriamo Gesù vivo e vero Leggiamo il messaggio Cari figli, siete fedeli alla chiamata del Signore Non ostacolate i piani del Signore Egli si aspetta molto da voi Ascoltatemi Non sono venuto dal cielo per obbligarvi ma siate docili ai miei appelli Tutto in questa vita passa ma la grazia di Dio in voi sarà eterna State camminando verso un domani in cui pochi onoreranno il santo nome di Dio L'umanità cammina in una triste cecità spirituale e io sono venuto dal cielo per indicarvi la via della salvezza Pregate Solo con la forza della preghiera potete comprendere la mia presenza tra voi Non dimenticate Siete nel mondo ma non siete del mondo Questo è il messaggio che vi trasmetto oggi nel nome della Santissima Trinità Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Rimanete in pace